Salve, sono Roberto Chiuto, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Mi hanno chiesto di fare un WhatsApp per voi, lo faccio e mi rivolgo soprattutto ai giovani calabreschi che guardano alla politica con diffidenza, pensano sia inutile o sia inutile votare. Scegliete bene, perché la politica è l'unica possibilità che avete di costruire un futuro migliore per la nostra regione. Scegliete senza farvi condizionare da quelli che sanno soltanto gridare, che quando governano dimostrano di non saper governare. Scegliete guardando invece a come governano quelli che si occupano delle città, dei territori, ai risultati che riescono ad ottenere. Ed evitate di non scegliere, perché chi non sceglie lascia agli altri la possibilità di decidere del proprio futuro. A volte ci si lamenta della politica, ma poi non si fa nulla per cambiare le cose. Se non c'è altro modo di cambiare le cose, se non attraverso la nostra capacità di scegliere per il governo delle istituzioni persone capaci, persone competenti. Probabilmente fra queste non c'è nemmeno Roberto Chiuto, ci sono tanti giovani che si candidano nei consigli comunali, che si candidano nei consigli regionali o imprenditori che si candidano alla Camera. Scegliete chi volete, ma scegliete bene perché altrimenti anche voi sarete responsabili dello sfascio determinato dai politici e da chi in Calabria li ha scelti male nel corso degli anni. Grazie a tutti.